Eagle Core controlla le reflex e mirrorless digitali per fare storfotografia, autoguida con diverse camere, controlla la messa a fuoco con sesto senso, tutto con un comodo wifi e da oggi potete anche controllare la vostra montatura. Oggi presentiamo il nuovo firmware 2.5 per Eagle Core che vi consente di controllare anche le montature computerizzate. Vi basta collegare la pulsantiera della vostra montatura computerizzata a una delle porte USB di Eagle Core. In questo modo potete utilizzare la fantastica app SkySafari Plus o Pro per trovare gli oggetti da fotografare e puntarli. Collegatevi alla rete wifi di Eagle Core e fate partire SkySafari Plus o Pro. Dopo aver selezionato la vostra montatura nelle impostazioni di SkySafari avviate la connessione. Ora potete trovare l'oggetto che volete fotografare muovendovi nell'interfaccia e zoomando sull'area desiderata. Quando avete trovato l'oggetto premete il bottone Go to e il vestito del telescopio lo punterà automaticamente. Tutto in maniera molto facile e veloce. Quindi passiamo alla Eagle App. Qui possiamo controllare la camera di guida e fare partire l'autoguida. Possiamo anche regolare la messa a fuoco con sesto senso osservando l'immagine di anteprima e ingrandendola per ottenere una messa a fuoco molto precisa sull'oggetto. Quindi possiamo impostare tutti i parametri di cattura come il numero di immagini, il tempo di posa in ogni singola foto, la sensibilità ISO e la cattura con il dittering. Quindi iniziamo la cattura della sequenza delle nostre immagini. Qui possiamo vedere la nostra immagine, ingrandirla e cambiare le impostazioni se necessario. Tutto è remoto senza mai toccare il telescopio. Eagle Core è il sistema più completo e semplice, espressamente dedicato all'astrofotografia con Reflex e mirrorless digitali.